Will! Lyra! Lyra! No! Lyra! La porta è chiusa. L'hai trovata? Non si avvicini! Stia indietro! Non avevamo un accordo. Siediti. L'accordo è annullato. Faccio sul serio, la taglio. Dammi la lama. Lyra! Ecco. È tuo. Dammela. Tieni. E perché dovrei fidarmi di te? Stia indietro, lo faccio! Non osare. Quel pezzo ha un immenso valore storico. Ho sentito che sai leggerlo. Perché non mi fai vedere? Poi se tu vorrai parleremo della polvere. E di ciò che Asriel ha fatto al tuo amico, Roger. Non voglio farle del male. Ho visto cosa fa la lama. Lyra, tu sei speciale. So che non mi credi, ma io sto solo cercando di proteggerti. Sei già a leggere l'aletiometro, io ti insegnerò a usare quel potere in altri modi. Lyra, dobbiamo uscire di qui! Dammi la lama e sarai libero. Lyra, sta lontana da quel ragazzo. Hai capito bene? È capace solo di fare del male. Lyra, prendi l'aletiometro! Sei uguale come ero io. Non sono uguale a te in niente. Che direbbe tua madre? Cosa? Dimmi, come sta tua madre? Devono essere davvero tremendi i rischi che corre una persona così... vulnerabile. No! No! Lyra! No! L'ho preso, andiamo! Dobbiamo andare! Lai, aspetta! Lai, aspetta! Lai, aspetta! Lai!